Sfiorata la quota mille visitatori nei primi due giorni d'apertura dell'area monumentale della Neapolis, un successo sopra ogni aspettativa dopo tre mesi di chiusura a causa dell'emergenza Covid-19. Una folla di visitatori, famiglie, coppie oltre singoli turisti hanno affollato l'area della Neapolis provenienti non solo dalla città di Siracusa ma anche da varie parti dell'isola. Aderendo all'iniziativa La Cultura Riparte promossa dall'assessorato ai beni culturali della regione siciliana guidato da Alberto Samonà, oltre 800 persone si sono prenotate per visitare il gioiello del Parco archeologico di Siracusa e Loro e Villa del Tellaro registrandosi sul sito aditusculture.com gestore del servizio di biglietteria dei siti per la Sicilia orientale. A tre mesi dall'emergenza che ha visto il Parco archeologico di Siracusa duramente colpito per la perdita di Calogero Rizzuto e Silvana Ruggeri si riapre, afferma Rita Insolia, direttrice ad intermi del Parco e lo abbiamo fatto dando la possibilità nel rispetto di tutte le regole anticontaggio di visitare gratuitamente fino al 7 giugno l'area archeologica più importante di Siracusa. È stata una forte emozione per noi rivedere bambini e famiglie dopo tanti mesi di inattività. Mi preme ringraziare tutti quelli che in poco tempo si sono prodigati per la riapertura dagli operai che hanno curato la pulizia del sito, al personale del Parco, agli operatori di Aditus Cultura che in pochi giorni ci hanno aiutato nel tracciare i nuovi percorsi all'Associazione Guide Turistiche di Siracusa che ha offerto gratuitamente il ricordo di Calogero e Silvana, le visite guidate in questi primi giorni. E' questo il primo passo in vista di un graduale ritorno alla normalità con le prossime riaperture di altri luoghi della cultura, Palazzo Roreide, aree archeologiche di Acrai e Museo di Palazzo Cappellani e della Villa del Tellaro a Noto. Per evitare code agli ingressi sarà obbligatorio prenotarsi online in anticipo e verificando così la disponibilità del giorno e della fascia oraria prescelta, tenendo conto che gli ingressi saranno contingentati e sottoposti a tutte le misure sanitarie previste dalla legge. Per chi prenoterà la visita gratuita basterà poi esibire all'ingresso il codice di prenotazione ricevuto. Non sarà consentito, per ragioni di sicurezza e per mantenere il distanziamento, l'ingresso a coloro che non avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione online.